Ecco che arrivano giù i primi, le prime fiappole bianche Un applauso Anche se molte delle nostre mani sono impegnate con gli smartphone per riprendere il video Di questa emozione Arrivano pronto, si viettono in linea i volontari e le volontarie Con le caccole in mano insieme a alcuni, i maestri e le due scuole scende per i casseroli Un applauso Un applauso Un applauso Un applauso Un applauso